buona fine anno a tutti oggi 31 dicembre vi auguro di concludere nel migliore dei modi questo 2021 ma soprattutto vi auguro le migliori fortune per il 2022 ovviamente ci saluteremo anche nella giornata di domani con il video del primo dell'anno però tenevo particolarmente a farvi gli auguri di buona di buon fine anno soprattutto raccontandovi l'ultima sessione di allenamento di questo 2021 al centro sportivo di milanello la squadra si è allenata questa mattina confermiamo anche oggi davide calabria in gruppo e confermiamo anche oggi purtroppo i tre allenamenti quattro allenamenti personalizzati per rebic leao ibra e pellegri stanno molto meglio i giocatori soprattutto leao e rebic nello specifico il croato credo che sia l'attaccante più vicino al rientro probabilmente già da domani o dopo domani potrebbe cominciare a fare qualcosa in gruppo poi vediamo se ce la faranno per la partita contro la roma anche perché si gioca il 6 gennaio giovedì turno infrasettimanale il primo turno del giro di ritorno e del 2022 vedremo insomma nelle prossime ore se rebic comincerà a lavorare in gruppo per ora personalizzato sul campo con allunghi e affondi per cercare di acquisire quanto prima possibile la miglior forma fisica e atletica per tornare in gruppo ricordiamo che rebic manca da 40 giorni circa da dall'allenamento con la squadra l'ultimo lo ha svolto proprio una quarantina di giorni fa col resto del della squadra dei compagni poi da quel infortunio in poi ha sempre lavorato a parte tra palestra e campo oggi questa mattina secondo me c'è stato una bella intervista di paolo maldini al alla rivista 7 inserto del corriere della sera dove il primo argomento quello di introduzione all'intervista è sicuramente l'argomento stadio un argomento che ovviamente a casa milan tiene banco tutti i giorni è il nuovo stadio come dire il fiore all'occhiello della nuova proprietà americana eliot che sta spingendo sull'acceleratore per provare a costruire quanto prima possibile il nuovo stadio insieme all'inter la realizzazione dovrebbe essere conclusa entro il 2027 i lavori entro la fine del 2022 ma paolo maldini ha dato la sua versione dei fatti ha detto giustamente che legato allo stadio c'è un sentimento d'affetto e di amore nei confronti di uno stadio che ha visto tante imprese ma sono le squadre che rendono lo stadio importante in base alle partite in base alle imprese e alle vittorie ma per cambiare passo per dare una nuova luce al milan e anche all'inter c'è bisogno del nuovo stadio c'è bisogno di incrementare i ricavi c'è bisogno di modernizzare un po tutta la struttura quindi è un paolo maldini molto deciso sull'argomento stadio e un paolo maldini molto determinato ha detto sono legato affettivamente a san siro ma vi assicuro che l'unica strada per portare milan e inter ma noi ci occupiamo soprattutto di milan al vertice del calcio europeo come una volta e fare il nuovo stadio è un passaggio fondamentale ormai bisogna metterlo in mente va bene i nostalgici perché ci sono sempre lasciare una struttura storica come san siro può far male dal punto di vista sentimentale però dal punto di vista razionale dal punto di vista economico e finanziario è un passo doveroso per riportare il milan di nuovo ai vertici è un maldini che ha parlato anche della sua storia del passato del rapporto con il padre col milan un maldini che ha parlato anche della sua prima esperienza da dirigente ha detto che all'inizio si sentiva fuori luogo perché non aveva esperienza da dirigente è stato utile anche l'apprendistato con leonardo fino a poi quando leonardo ha lasciato il milan e lui si è responsabilizzato passaggio molto importante su gigio donnarumma ve lo leggo per quanto riguarda l'addio di donnarumma e il passaggio al parisagermendo lui dice a volte so di sembrare quasi fatalista luigi donnarumma è una bella persona piena di emozioni ecco questo è il passaggio preciso io credo che in un mondo ideale l'unica vera motivazione di un calciatore dovrebbe essere la passione ma se il tuo obiettivo è quello di ottenere un riscatto sociale e denaro da dare alla tua famiglia che ha stretto la cinghia per te negli anni della tua infanzia beh anche quelle sono motivazioni da capire e rispettare praticamente in poche parole maldini ha ribadito che l'addio di donnarumma è stato fatto per denaro non per il progetto ovviamente non per un uno scatto nella carriera a livello progettuale a livello di squadra donnarumma è andato via per soldi non scopriamo di certo l'acqua calda però sentirlo dire comunque in maniera molto soft in maniera molto filosofica da una parte di paolo maldini ecco va ad avvalorare la tesi che tutti noi avevamo su gialluigi donnarumma ripeto il passaggio lui dice che se il tuo obiettivo è quello di ottenere un riscatto sociale e denaro da dare alla tua famiglia anche queste sono delle motivazioni da capire e rispettare perché lui giustamente crede che in un mondo ideale l'unica vera motivazione di un calciatore debba essere quella della passione evidentemente c'è chi guarda prima alla passione guarda prima alla squadra in cui è cresciuto da altri valori ci sono invece altri giocatori che guardano prima al denaro e alla al denaro e quindi fanno delle scelte in base a quello quindi ricapitolando bella intervista di paolo maldini sul quotidiano 7 un fine anno che vede il milan allenarsi al centro sportivo rosso nero per poi staccare qualche ora e riprendere col piede sull'acceleratore verso il 2022 dove il milan deve partire benissimo perché c'è lo scontro diretto contro la roma poi c'è spezia venezia anzi invertite e poi la juventus nel mese di gennaio più la coppa italia contro il genova mancheranno che si e benasser in coppa d'africa le chiavi del centrocampo saranno consegnati consegnate nelle mani di sandro tonali vedremo con chi farà coppia se con bakayoko o con krunic mentre in attacco oltre i rientri di ibra pellegri leao e rebic ce li aspettiamo nei prossimi giorni deve dare sicuramente qualcosa in più braim diaz che nella seconda parte del giro è d'andata non è sembrato sicuramente il vero braim quello dove aveva segnato tre gol e fornito due a due assist nella prima parte della della stagione quella pre covi quindi ci aspetta un 2022 molto intenso 2000 dovrà partire benissimo ma ovviamente per tutto il resoconto del 2021 e per i propositi di questo 2022 dedicheremo un video nello specifico parlando anche di calciomercato nella giornata di domani per ora vi saluto è un buon fine anno un buon fine 2021 a tutti